Luca Selli, ne ha facoltà. Grazie Presidente, Collegio dei Questori. Io credo che sia importante iniziare questa dichiarazione di voto riportando all'Aula un rammarico personale perché vede, Presidente, è stato un po' inimmaginabile quello che è successo prima nella discussione degli ordini del giorno. Ed è stato inimmaginabile perché si sono utilizzati i minuti a disposizione per parlare del bilancio Camera, per parlare del lavoro svolto e di quello che verrà svolto dai Questori con argomentazioni e riportando delle tematiche che nulla hanno a che fare con questo dibattito. Per cui ovviamente non risponderemo ai colleghi sul salario minimo, sul reddito di cittadinanza perché non è questa la sede e non è serio affrontare temi così delicati semplicemente per lasciare la traccia della propria propaganda. E mi permetta anche di dire per suo tramite ai colleghi dei Cinque Stelle che hanno parlato di banalizzazione di alcuni temi come quello affrontato dall'Ordine del giorno del collega Cagliata che se dobbiamo considerare come una banalizzazione rispetto ai problemi che ci sono in Italia in questo momento l'Ordine del giorno del collega e allora dobbiamo intendere da parte del Movimento Cinque Stelle una è uguale se non più grave banalizzazione quando all'Ordine del giorno 32 proprio a questo provvedimento si pone il problema del parcheggio per i monopattini. Ora immagino che anche questo colleghi dei Cinque Stelle non sia un problema della nazione e credo invece che sia molto più pertinente quello che ha sollevato il collega Cagliata perché vedete al di là dei numeri che sono stati già ampiamente approfonditi nel dibattito da parte di tutti i colleghi delle altre forze politiche io credo che parlare del bilancio della Camera sia in realtà il nostro modo per parlare della democrazia sia del modo in cui questa democrazia vuole essere attuata anche all'interno di questa istituzione e proprio per questo motivo mi permetto di ringraziare a nome di tutto il gruppo di Fratelli d'Italia la Presidenza, tutto l'Ufficio di Presidenza il Segretario Generale il Collegio dei Questori e mi permetta al loro interno di ringraziare con una particolare affezione il collega Anziano il questore Anziano Trancassini ecco collega Trancassini non me ne vorrà se la chiamo Anziano perché sappiamo tutti che lei è giovane è giovane dentro ma lo facciamo lo facciamo sapendo che questo Collegio dei Questori e questa Presidenza ha una particolare attenzione alla gestione del buon padre di famiglia di questa istituzione perché vedete lo hanno già detto ma è importante ribadirlo non bisogna semplicemente tagliare quello fa parte della propaganda fa parte di una narrazione che si vuole dare all'esterno di questa istituzione noi non dobbiamo parlare di tagli ma dobbiamo parlare dell'utilizzo migliore possibile lo ha detto il questore Trancassini nella sua relazione dobbiamo ottimizzare che è un po' quella che è l'ottica di tutto il governo all'interno di tutte le istituzioni che presiede in questo momento razionalizzare la spesa ottimizzare le risorse investire invece che spendere un concetto che sino a questo momento sembrava al di fuori anche di questa Camera e che invece è importantissimo riportare al centro del nostro dibattito fra tutte mi piace sottolineare l'attenzione del Collegio dei Questori e di questo ufficio di Presidenza rispetto a un tema che è stato da tantissimi anni al centro dell'attenzione del gruppo di Fratelli d'Italia il Presidente Rampelli ne ha fatto una delle proprie battaglie personali cioè quella dei dipendenti della Camera e della dignità dei lavoratori della Camera perché vedete se non riusciamo a dare dignità ai lavoratori in questa assemblea allora evidentemente non saremo in grado neanche di interpretare la dignità dei lavoratori al di fuori di queste mura sicuramente una gestione attenta e oculata anche in un periodo di inflazione e in cui il caro energia ha fatto evidentemente da padrone rispetto alle spese dei cittadini italiani e di questa Camera e allora un applauso particolare ai questori che hanno una visione di futuro una visione di futuro che passa attraverso una qualificazione e valorizzazione della spesa della Camera attraverso una ricerca della migliore qualità dei servizi da offrire ai parlamentari non in quanto tali ma in quanto rappresentanti dei cittadini e che lavorano al servizio dei cittadini ecco questo vuol dire guardare al futuro questo vuol dire fare una programmazione cosa che sino a questo momento sempre rispettata all'interno della Camera ma che dobbiamo utilizzare anche all'esterno programmare vuol dire utilizzare nel miglior modo possibile le risorse dello Stato e allora Presidente mi avvio alla conclusione annuncio il voto favorevole del gruppo di Fratelli d'Italia e auguro buon lavoro a questa Presidenza e al Collegio dei Questori grazie 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 grazie